Al Parlamento europeo per gridare il diritto al futuro dei giovani, un futuro di pace e di ambiente vivibile in alternativa a una folla corsa agli armamenti e a un cambiamento climatico che soffoca la vita delle persone. Partecipare al voto per i giovani in questi tempi così difficili, così oscuri è un diritto ad essere ascoltati, è il diritto di contestare, è il diritto di protestare democraticamente nei confronti di un'Europa troppe volte assente, troppe volte distratta, che considera i giovani un oggetto e non soggetti di grande vitalità e di grande voglia di futuro. Partecipiamo, partecipate al voto, la vostra partecipazione può fare la differenza, insieme ce la possiamo fare ed essere finalmente liberi dalla paura del futuro, avendo cura del futuro. Grazie.